Si doveva discuterne questa mattina presso il Tribunale di Lago Negro, ma per un difetto di notifica tutto è stato rinviato. Il Comune di Montesano sulla Marcellana e alcuni cittadini erano pronti a dare battaglia ad opporsi alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nei confronti dei responsabili di Terna in merito al reato di disastro ambientale. Questa infatti era l'accusa formulata a carico del Colosso per aver deciso di costruire la sottostazione elettrica nella frazione Scalo, accusa che poi la stessa Procura aveva lasciato cadere, incontrando però l'opposizione di quanti a Montesano hanno lottato in questi anni contro l'opera. Stamane avrebbe dovuto tenersi l'udienza, ma il giudice, visto un difetto di notifica, ha deciso di rinviare il tutto al prossimo 8 luglio. Poco male, in questo momento in cui nella cittadina valdianese si vive l'acceso confronto per le imminenti elezioni amministrative, nell'aula di tribunale si sono trovati fianco a fianco, per una volta dalla stessa parte, i due candidati a sindaco Giuseppe Rinaldi e Renivaldo La Greca. Il primo per rappresentare il comune di Montesano in qualità di vice sindaco attuale, il secondo come avvocato di quei cittadini che hanno affiancato il comune nell'opporsi a Terna e alla richiesta di archiviazione nei suoi confronti. Sepolta l'ascia di guerra, La Greca e Rinaldi hanno ribadito entrambi la volontà di non concedere sconti e di andare avanti estrenuamente in questa battaglia contro Terna, per una volta al di là della politica, uniti nel segno della tutela del loro paese e della loro gente, perché dove c'è un obiettivo e un reale problema non c'è partito che tenga.